Due cittadini stranieri sono stati arrestati da agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Secondo subito dopo aver commesso un furto e poco prima che utilizzassero indebitamente una carta di pagamento appena rubata. I poliziotti erano alla loro ricerca da qualche settimana, infatti a partire dal mese di maggio scorso erano stati registrati nel quartiere Crocette San Secondo diversi furti e danni di donne anziane alla guida della propria auto, che nel momento in cui si apprestavano a parcheggiare venivano affiancate da una Fiat 500 bianca. Alla guida, in tutte le circostanze, una persona di origine straniere che chiedeva loro delle informazioni stradali con particolare insistenza. Nel momento in cui l'auto si allontanava, l'ignera vittima si accorgeva di essere stata derubata dalla borsa apposta su sedile anteriore dell'auto, l'autopasseggero. Inoltre, impossibilitata bloccare le carte e i bancomat poiché private del cellulare. Tutte le vittime, i casi accertati sono sei, ma si teme che possono essere molti di più, sono state anche immediatamente derubate in importanti somme di denaro contante. In qualche caso, con tali carte, sono stati effettuati degli acquisti per importi superiore ai 1000 euro, presso dei banchi di abbigliamento del mercato di piazza benefica. L'attività investigativa del commissariato ha consentito di ricostruire tutti i movimenti dei malfattori, portando all'identificazione di almeno due degli autori dei furti, che non si esclude possono essersi avvalsi della complicità di un terzo uomo per alcuni colpi, e alla loro segnalazione alla Procura della Repubblica di Torino. Grazie per la visione!